Eh, sì, sì, ciao Arianna, ciao. Buonasera, benvenuti a Romanzo Familiare. Ciao Arianna. Buonasera. Benvenuti a Romanzo Familiare. Ma vuoi che... Ma vuoi che... Se vuoi sapere... Vuoi sapere com'è andata? Alessandro, vi faccio la domanda per la seconda volta. Tu ti chiami? Mi chiami. Ma per forza! Arianna, ti chiami? Sì. Ho deciso che da questa sera cambio mestiere. Mi butto al circo, guarda. Bellissimo! Basta con la televisione, faccio il circo. Questo è il benvenuto, eh? Sì, le decidi lo faremo. Quattro, quattro, tac, tac, tac. Faccio il tre. Non me lo ricordo. Uno, base, tac, tac, tac. Ah, diciamo di oscurare in tutta la Romagna. Ho deciso che cambio mestiere. Antonio, che faccia hai, che bello. Sembra un bambino a Luna Park, Antonio. Cioè, che roba è? Eh, un insetto stecco. Ma come si chiama questo? C'è un nome? Secondo me è femmina. Io lo chiamerei Arianna. Tu che dici? È volato, vicino alla camera. No, io non voglio chiamare un insetto stecco col mio nome. Non mi piace. Io sono Antonio. Ciao. Allora, andiamo, andiamo. Piacere. Mi ha chiamato tua mamma. Non so se lo sai, se hai saputo. Che, insomma, avete un po' litigato con la cucina. Ma siamo mai stati amici. Mai stati amici. Ho portato gli ingredienti per fare un primo, eh? Uno a caso. Vieni con me. Allora, guarda, Jacopo. Intanto, hai acceso il fuoco qua sotto? Per prima cosa, tu cominci a grattucciare la zucchina. Il pesce, se non sapete quello fresco, se non sapete che è buono, meglio quello il suggelato. Io faccio così. Voi fate come vi pare. Sul finale c'è un saluto speciale per te, ma dopo, eh? Sei vecchia. Sono vecchia? Sì, è vecchia. Io sono vecchia. Ma chi te l'ha detto di dirlo? Chi fa vedere? Ah, lo tio Antonio, il nonno Antonio te l'ha detto. Romagna in fiore, tu sei la stella. Ufficialmente bocciarlo per il tuo tuo amanturro, sicuramente. Vabbè, ho più amico. Grazie.